Cosa accadrà ai segni zodiacali in amore e al lavoro tra sabato 2 e domenica 3 settembre? Ecco cosa prevede l'oroscopo di Paolo Fox per il primo weekend di settembre. Oroscopo Paolo Fox per il weekend 2 a 3 settembre. Le novità segno per segno. Ariete, in amore stai attraversando un periodo di calma apparente, ma non preoccuparti, le cose miglioreranno. La carriera, invece, sta andando a gonfie vele e anche se la salute potrebbe fare qualche capriccio, non è nulla di grave. Le finanze sono stabili, mentre nella comunicazione c'è ancora qualcosa da migliorare. Toro, la fortuna ti sta dando una mano anche nel lavoro, ma non tutto va bene. La salute potrebbe dare qualche problema e le finanze non sono al meglio. Sarebbe bello se tu mettessi un po' più di energia nelle tue relazioni sociali e nella comunicazione con gli altri. Gemelli, sembra che la fortuna sia dalla tua parte in questo periodo. Infatti, nonostante le sfide nella carriera, la tua creatività ti aiuterà a superarle con facilità. L'amore potrebbe essere un po' instabile ma non disperare. L'equilibrio interiore è forte e ti guiderà nelle scelte giuste. Cancro, per quanto riguarda l'amore, non lasciarti scoraggiare da qualche piccola tempesta. Il sole tornerà a splendere presto. A livello di carriera, tieniti pronto ad affrontare delle sfide. Leone, la fortuna ti sorride anche in amore e carriera, ma attento alle finanze. L'equilibrio interiore potrebbe essere messo alla prova quindi cerca di mantenere il controllo delle emozioni. Potresti dover lavorare un po' sulla tua saggezza e leadership. Vergine, stai attento alle finanze. Evita le spese impulsive o potresti ritrovarti con i conti un po' ballerini. Ricorda che la tua energia è una risorsa preziosa da gestire con cura. Bilancia, compatibilità ed emotività stanno vacillando, ma non lasciare che questo ti scoraggi. In amore e carriera ci potrebbero essere un paio di ostacoli da superare. Tieni d'occhio la salute. Scorpione, tu sei abituato a dare il massimo in tutto, ma la tua adattabilità è al top e le tue capacità comunicative sono sulla buona strada. Nonostante ciò, risulta un po' difficile da gestire l'ambito finanziario ed emotivo ultimamente. Sagittario, potrebbe esserci qualche battuta d'arresto in termini di carriera e finanze. Dovrai lavorare un po' sulla tua abilità di comunicazione. Ricorda che la fortuna ti assiste nelle sfide più grandi. Capricorno, il tuo equilibrio interiore sta andando a gonfie vele. A livello di carriera, sei solido come una roccia. Ma non tutto è oro quel che luccica. Le tue finanze potrebbero dare qualche grattacapo e la tua emotività sembra un po' sueggio. Acquario, è il momento di fare squadra. Nonostante una certa instabilità nella salute e nelle finanze, non temere. Sei pieno di risorse per affrontare i piccoli ostacoli che potrebbero sorgere. In amore ci sono delle sfide in arrivo. Pesci, la fortuna sembra essere dalla tua parte in amore e carriera. Lascia che il flusso ti porti dove devi andare. La salute potrebbe richiedere qualche attenzione in più, ma nulla che non possa essere gestito con equilibrio interiore.